Capito a volte che mentre vogliamo andare a giocare con la nostra Play il nostro joystick dà di matto e quindi praticamente rimane il nostro leddino acceso senza alcun segnale quindi non ci permetterà di poter andare ad usufruire dei nostri giochi e ovviamente del suo utilizzo e vediamo insieme come poterlo andare a risolvere quindi se ci accorgiamo che una volta arrivati vicino alla nostra Play e ci troviamo quindi in questa situazione dove il nostro joystick presenta questa luce blu sempre accesa ma vediamo che se premiamo il tasto PS ovviamente non funzioni e ovviamente con la Play accesa quindi come bisogna fare? Bisogna prendere uno speedino, andare vedete a tenere premuto questo tastino qui in basso e tenerlo premuto per almeno 10 secondi come sto facendo io in questo momento a video vediamo che la luce subito si spegne e ci assicuriamo che dopo qualche secondo, attendiamo almeno un minuto, la luce ovviamente non si vada a riaccendere una volta effettuato questo passaggio ci dirigiamo di nuovo vicino alla nostra Playstation premiamo il tasto PS e vediamo che come per magia ovviamente ritorna nuovamente a funzionare questo trucchetto vale sia per quelli che possono essere joystick originali oppure joystick di terze parti il sistema ovviamente è presso a poco lo stesso ma sicuramente il tastino magari pure se non è allo stesso posto ma comunque può variare di qualche centimetro o qualche poco posizione spero che questo video ti sia stato utile se ti fa piacere iscriviti al canale, metti mi piace con la campanellina e ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao